Dispiace, sicuramente dispiace per non passare il turno, però insomma i rigori ci stanno, si sbagliano, quindi dispiace però il calcio è così. Sicuramente ha fatto qualcosa in più, però il calcio è questo, ripeto, dispiace per non essere passato, però noi dobbiamo pensare soltanto a lavorare, lavorare, cercare di migliorare sotto tutti i punti di vista, come ho detto l'altra volta i frutti ci vuole tempo, ci vuole mese, quindi noi dobbiamo continuare, poi dispiace sicuramente per il risultato, per il calcio è questo. Quanto c'è da lavorare secondo te? C'è da tanto, siamo all'inizio, è passato un mese, sicuramente c'è da lavorare, ma lo stiamo facendo è che ci vuole tempo per vedere i risultati, è così da sempre. Personalmente io si trovo bene, vabbè, ho sempre giocato a mezz'ala, i ruoli centriamo li posso fare tutti. La squadra magari oggi ha permesso qualcosa in più, diciamo, all'andata eravamo stati, avevamo permesso un po' meno, però è normale, ci sono anche le abbezzarie.